Cari telespettatori di Rete55, annunciamo che domenica 6 settembre alle ore 19 avremo come sempre la trasmissione itineraria dello spirito, la trasmissione dedicata a argomenti di attualità, soprattutto di vita religiosa, di vita della Chiesa, di attualità anche legata a importanti eventi che accadono nella società civile su cui è necessario magari dare anche un commento, una rilettura cristiana e domenica 6 settembre l'argomento sarà il sisma e la pandemia, le ferite aperte, cioè quello che è accaduto e ormai gli anni passano proprio quattro anni or sono, lo riprendiamo in un commento con alcune testimonianze dai luoghi dove è avvenuto il sisma del 2016. Grazie per coloro che potranno sintonizzarsi su questa trasmissione.